Ciao amici! Dopo anni di moda delle sopracciglia super sottili finissime, da qualche anno il trend è avere sopracciglia spesse e ben disegnate. Ecco, io che ce le avevo finissime, ora come faccio? Ci aiuta la natura! Se i trattamenti estetici professionali costano caro, si può aiutare la ricrescita con alcuni rimedi naturali fai da te, gli stessi che stimolano la crescita dei capelli. Ecco come fare! Per vedere tutti i miei video consigli sulla cura della bellezza naturale, trovi le mie playlist in descrizione e nella piccola i qui in alto. Ora i 5 rimedi naturali fai da te per avere ciglia spesse e alla moda. 1. Scrab. Fare uno scrub delicato sulla pelle intorno alle sopracciglia pulisce i pori ed elimina le cellule morte, favorendo la ricrescita. 2. Olio di oliva. Massaggiare delicatamente con olio di oliva le sopracciglia per 5 minuti aiuta la crescita e la morbidezza grazie agli acidi grassi essenziali. 3. Aloe vera. Fare un impacchino con gel di aloe vera per 5 minuti sulle sopracciglia per stimolare la crescita e lo spessore. 4. Tuorlo d'uovo. Sbattere un tuorlo d'uovo, intingere due dischetti di cotone e fare un impacco sulle sopracciglia per 5 minuti. Il tuorlo d'uovo contiene cheratina che fortifica le sopracciglia. Squaletto dice che lo faceva anche nonna Squalè. Già, i rimedi della nonna funzionano sempre. Provate questi rimedi e scrivetemi nei commenti i vostri risultati e se avete rimedi casalinghi efficaci che usate voi. 5. Olio di cocco. Le donne indiane hanno capelli lucidi e morbidi e sopracciglia fantastiche grazie a un segreto, l'olio di cocco. Massaggiare con delicatezza le sopracciglia con olio di cocco favorisce la crescita, lo spessore e la morbidezza. Inserite questi 5 rimedi a rotazione nel vostro rituale di bellezza alla mattina o alla sera e vedrete i risultati in poche settimane, con la garanzia che è tutto 100% naturale e senza rischi per la salute. Abbi cura della tua bellezza con le cose che hai in casa. Sotto in descrizione trovi link ai miei libri ed ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!